È stata inaugurata nello spazio espositivo del Museo di Casa Milan la mostra La Fabbrica delle Coppe, dedicata alla Coppa del Mondo. L'ambito trofeo dal 1971 viene realizzato dall'azienda G.D. Ebertoni di Paderno Dugnano, su progetto dello scultore Silvio Gazzaniga, vincitore del concorso internazionale indetto all'epoca dalla FIFA. Ho fortemente voluto questa mostra e il messaggio della D. del Milan Barbara Berlusconi, perché racconta l'eccellenza italiana di storie come quella di Silvio Gazzaniga, uomini che hanno trasformato il lavoro artigianale in arte, vicende umane e professionali poco conosciute che abbiamo il dovere morale di raccontare e far conoscere alle nuove generazioni. Fino al 31 ottobre, quindi, i visitatori potranno ammirare per la prima volta i bozzetti originali, i modelli, gli stampi e le macchine necessarie alla realizzazione dei trofei, dalla Coppa UEFA alla Coppa dei Campioni. Un percorso che termina con l'esposizione della Coppa del Mondo, conquistata nel 2006 dall'Italia a Berlino.